buongiorno oggi fa un giretto qua stamattina pronti? sei pronto? l'unica preoccupata vedo una persona molto preoccupata ma vabbè pronto il pieno? si si sta pieno? si vedi? ancora va bene vedi? sta pieno sta pieno che bello è stato bellissimo grazie mille un applauso mi sono cagato addosso porco cane la maglia è diventata verità siamo atterrati e dove li aspettiamo oggi? questa sera dalle 18 beach party all'ostras coco experience chi suona? federico scavo e c'è anche nicolabini che lui non suona però canta organizza aspettiamo all'ostras ci sarò anch'io logicamente e suoniamo e cantiamo no perché sono un cantante oggi cantiamo veramente la guido io secondo giro ormai è un professionista allora come si accende con la chiave o c'è lo starter come si accende con questa che è il volante perché vola scaldano le candelette ecco come la guido di nonno si scaldano le candelette queste fatte leva il freno a mano in tanti mi avete chiesto come si muoveva il divano nel video si muoveva con lui come lo spingevi con la testa ragazzi se ci credete andate a vedere anche il backstage su youtube ma era lui era mike guardate ti mettono di lì? ci provano e tu che fai? che fai? eeeh canto perché voglio diventare un cantante però mi devi dare lezioni tu si si canta su quindi vi aspettiamo tutti qua ciao vuoi il menù? vuoi il menù? ecco legge il menù tieni legge un po il menù sono cantante si basta questo telefono basta col telefono basta col telefono basta col telefono è stufato basta no ha ritirato un è stufato dai basta di cazzo poccoline dai bocca le pizze ma te da dove sei? di Miami? vestito così dentro la mia tante mamma mia che bomber hai perso anche la pancia tre giorni con me si no tra l'altro l'ho lasciata bene tutte donne in casa bisogna viziarle andiamo a prendere la pizzetta va bene andiamo a prendere la pizzetta ma alle 19 ragazzi andiamo tutti a sostenere il nostro amico Federico Scavo e grazie anche c'è una trasformazione incantante adesso vediamo noi stiamo all'Ostras Ostras Beach grazie anche da Federico Scavo gli stacco la console e finisce di suonare vediamo un po venite codrillo serio Stefano eh che mascherina c'ha? numero uno da dove vieni? da Puglia grandissimo numero uno grande no vabbè sta pieno torri ciao 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 Grazie.